Non era nel calendario delle discussioni del Consiglio Comunale, ma c'è finito lo stesso, ovvero il caso dei lavori al Teatro Rossini, che rischiano di chiudere la struttura agli eventi per il 2022 con forte preoccupazione per lo svolgimento delle Rossini Opera Festival, che ha già opere in agenda nella sua sede naturale. Ieri l'assessore Alfare Riccardo Pozzi ha illustrato in Consiglio Comunale la variazione al piano triennale delle opere, che è stato approvato con 19 voti favorevoli e 8 astenuti. Fra i capitoli di spesa ci sono anche altri 150.000 euro per i lavori e la messa in sicurezza del teatro. Sul Teatro Rossini ci sono due aspetti, uno legato che è completamente distinto rispetto all'intervento, ai contributi e alle risorse che andiamo a mettere con questa variazione al piano triennale, che riguardano i lavori sulla Sala della Repubblica. È un cantiere che sta procedendo in modo assolutamente lineare e coerente rispetto a quello che era il cronoprogramma, sia degli interventi, sia rispetto alle tempistiche. Quindi da una parte abbiamo un cantiere che si concluderà nei primi giorni di luglio, dall'altra parte abbiamo un'esigenza che riguarda un po' probabilmente non solo il teatro di Pesaro, ma in realtà tutti i luoghi storici, tutti gli edifici storici del nostro paese che riguardano intervento di manutenzione straordinaria. Quindi con questi 150 mila euro da una parte andremo ad affidare un incarico per definire tutti gli aspetti legati alla progettazione, quindi gli interventi di messa in sicurezza del teatro e con un'altra parte andremo ad fare un intervento proprio che lo possa rendere agibile e disponibile per le tante iniziative culturali che si svolgeranno già quest'anno. 150 mila euro che si aggiungono agli 80 mila già inizialmente previsti. Fondi stanziati ma che non è detto siano sufficienti a dribblare le lancette che corrono, col cantiere che si protrarrà almeno fino a luglio, ma anche con burocrazia enorme di sicurezza. Secondo lo stesso Pozzi, la Commissione Pubblico Spettacolo ha infatti dato parere positivo all'agibilità del teatro, ma sarebbe una agibilità ridotta dai lavori nella Sala della Repubblica conflittuali con la fruizione dell'ultimo ordine di palchi. Platee dunque aperte, palchi probabilmente no. Una situazione che rischia di non soddisfare le esigenze del Rossini Opera Festival.